Dalla Osovana alla A23 per restituire vivibilità e sicurezza a Pagnacco gli autotrasportatori artigiani chiedono alla regione di compensare i costi aggiuntivi Il sindaco di Corno di Rosazzo scrive al prefetto di Udine per dire che non è disposta ad accogliere sul territorio 12 profughi I cittadini sono preoccupati, dice e aggiunge, prima vanno aiutati i bisognosi della nostra comunità Per Udinese, Juventus e Sold Out, i biglietti per il big match al Friuli sono andati a ruba tifosi in coda davanti alla biglietteria dello stadio già prima dell'apertura degli sportelli A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli Hanno raggiunto i 40 anni di contributi e non vedono l'ora di andare in quiescenza Per questo hanno preso d'assalto i patronati per avere tutte le informazioni utili sui decreti relativi al prepensionamento I sindacati friulani però affermano che la normativa è solo una chimera che crea tra i lavoratori friulani tante aspettative che poi non hanno riscontro Illusi a caccia di notizie certe per poter andare in pensione prendono d'assalto i patronati di Udine In Inca CGL sono almeno una decina al giorno i lavoratori che hanno alle spalle 40 anni di contribuzione che ricercano via ed uscita dalla stretta della riforma Fornero Lo riferisce lo stesso direttore del patronato Danilo Margherita Secondo il quale la finanziaria ha dato delle indicazioni di massima su possibili interventi messi in atto dal governo a favore di lavoratori precoci e usurati e qualche proroga per l'opzione donna Forse alcuni riusciranno a rientrare nei parametri indicati dalla finanziaria e tra questi solo un numero esiguo potrà effettivamente fruire della possibilità di andare in pensione La normativa, tuona Margherita, è ancora una chimera che crea inutili aspettative Il decreto, che tra l'altro non è stato ancora emanato stabilisce che le norme siano applicate a partire dal 1 maggio e prevede un tetto massimo di spesa Il meccanismo fa acqua da tutte le parti, continua Margherita, e presenta diversi rischi come quello di trovarsi in una sorta di graduatoria le cui verifiche non si capisce bene da chi possano essere effettuate e intravede la possibilità che si creino situazioni similari a quella degli esodati Secondo il direttore Inca, dal 2012 a oggi, tutti gli interventi in tema di pensioni hanno contribuito a creare un clima di incertezza e penalizzano soprattutto le donne La dimostrazione pratica è la proroga dell'opzione donna Si tratta di una vera e propria bufala, continua Margherita Le uniche certezze per usufruirne sono l'aver perfezionato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2015 Non dà speranze dunque il direttore del patronato Inca CGL Se non ci saranno reali correttivi, gli uomini andranno in pensione con 42 anni e 7 mesi di contribuzione e le donne con 41 e 7 mesi o entrambi all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi Maxi operazione dei carabinieri del nucleo antissofisticazioni di Udine dei funzionari dell'ispettorato repressione frodi disposta dalla procura di Pordenone con l'obiettivo di tutelare la qualità delle indicazioni geografiche tipiche nel merino dei militari una cinquantina tra allevamenti, macelli, abitazioni e studi professionali in varie province del nord Italia tra cui anche Pordenone, Udine e Gorizia Scopo dell'operazione? Il contrasto alle frodi e agli illeciti ai danni dei consumatori Due giovani albanesi di 23 e 22 anni sono stati fermati dai carabinieri di Gradisca in collaborazione con i colleghi di Abbiate Grasso i due senza fissa dimora sono sospettati di diversi furti in abitazione commessi tra gennaio e febbraio nelle province di Milano e Pavia durante i raid i giovani utilizzavano un Audi S4 Station rubata che per non dare nell'occhio posteggiavano in aree di sosta pubbliche nell'ultimo tentato furto in provincia di Pavia i due malviventi scoperti dai carabinieri si erano dati alla fuga a piedi abbandonando l'auto le ricerche scattate immediatamente hanno previsto controlli ai caselli autostradali i due sono stati intercettati a Villesse nel tentativo di rientrare in Albania nell'auto i militari hanno trovato parte della refurtiva riconducibile a due furti commessi nel Pavese uno dei due era destinatario di un ordine di carcerazione di due anni per una rapina commessa a novembre 2015 a Cittadella e siamo ora alla pagina politica con le ultime in arrivo dalla capitale arrivano dal Friuli Venezia Giulia da tutta Italia gli appelli degli iscritti e dei dirigenti locali del PD alla direzione nazionale del partito riunita in una Roma assediata dai tassisti in protesta appelli che invitano tutti i leader ad abbassare i toni ad allontanare le divisioni che loro non capiscono ha parlato per loro il presidente del partito Matteo Orfini che ha invitato i dissidenti a riaprire la discussione ma la vera mediazione è stata messa in campo da un esponente della minoranza che non intende lasciare il partito Gianni Cuperlo avviamo subito il congresso e facciamo le primarie a luglio ha proposto invitando gli assenti a ricucire un dialogo per un'offensiva comune alle prossime elezioni amministrative ascoltiamo allora un breve estratto dell'intervento di Cuperlo alla direzione del PD proviamo a stupire noi stessi e quelli fuori da qui avviamo il congresso con le procedure, la commissione, le regole prevediamo quella prima fase costruita attorno ad un confronto programmatico politico e programmatico come suggerito dal presidente Orfini Orlando, Fassino, Martina poi affrontiamo assieme le amministrative e chiudiamo questo percorso con le primarie per la scelta del segretario entro la prima parte del mese di luglio l'annuncio di Michele Emiliano desta sorpresa e riduce l'area dei fuoriusciti oggi vi ribadisco che mi candiderò alla segreteria del PD questa è casa mia, a casa nostra e nessuno può cacciarmi o cacciarci via e poi Pierluigi Bersani, Roberto Speranza e parlamentari della loro area non cambiano idea non partecipano alla direzione di oggi al congresso del PD di cui non condividono le modalità di fatto a quanto si apprende sono così fuori dal partito e dissentono dalle scelte di Michele Emiliano di sfidare Renzi alle primarie una quarantina di deputati sarebbero pronti a formare già dal prossimo venerdì i nuovi gruppi e allora saluto presente ospite in studio in diretta con noi Enzo Cataruzzi buonasera buonasera telespettatori per insomma commentare le ultime che arrivano da Roma ma intanto abbiamo al telefono il senatore Pegorer che salutiamo e ringraziamo per questo intervento in diretta buonasera buonasera a voi ecco allora lei intanto come si posiziona rispetto al quadro che diventa sempre più chiaro a questo punto ma sì certamente il quadro sembra più chiaro anche dopo la direzione di oggi che nei fatti il cosiddetto muro non è caduto la situazione non è diversa da quella che si era manifestata nella sedia di domenica peraltro oggi abbiamo avuto anche una direzione che convocava che eleggeva meglio dire la commissione per il congresso senza il segretario del partito che questo trovo un aspetto molto significativo e noi andiamo avanti sulla strada che abbiamo scelto quella cioè sostanzialmente di lavorare per la costruzione di un nuovo soggetto politico del centro sinistra italiano ecco con i tempi e i modi che valuteremo da realizzare a partire dalla formazione di eventuali gruppi parlamentari nelle prossime giornate Pegorrer sono Cataruzzi prego mi dica ciao volevo chiedere Sonego come si comporta segue lei oppure io sono Pegorrer Sonego no ho capito magari magari qualcosa con Lodovico ho capito ma non so so che Lodovico come ha espresso anche pubblicamente in queste ore in queste giornate insomma sta riflettendo come peraltro sto riflettendo ancora anch'io le ripeto in politica non contano le parole contano i fatti le scelte che ci fanno le scelte che ci almeno per quanto mi riguarda che mi sto accingendo a fare non sono facili ecco sono convinto che non è cambiato nulla dalla scelta di domenica e quindi diciamo che è una scelta che mi costa anche sul piano personale e anche per il tanto lavoro che ho fatto assieme a tantissime persone in questi anni se la dovrò assumere sarà una scelta molto molto difficile ho capito bene allora ringraziamo il senatore Carlo Pegorair per questo intervento grazie buona serata Enzo prima di chiamarti nuovamente in ballo andrei a sentire le testimonianze raccolte questa mattina dalla collega Valentina Viviani prima della direzione del PD per fare un po' il punto anche su altri dissidenti e su cosa appunto decideranno di fare qui in regione parliamo di idee parliamo di contenuti parliamo di scelte politiche condivise per il paese io avevo individuato un po' in Orlando una possibile persona che è nuova rispetto a questi giochi però ritengo che potrebbe unire un po' le anime della destra e della sinistra diciamo ripercussioni in regione ripercussioni in regione io avrei questa sfida da lanciare in regione proviamo a pensare che la nostra regione sia un laboratorio in cui tentiamo di stare tutti uniti comunque e cominciamo a parlarci pensiamo a programmi pensiamo al convegno al congresso pensiamo a discutere di contenuti e non smettiamo di fare contrapposizioni di personalità disposto a sostenere Orlando e anche Vincenzo Martinez intenzionato a restare all'interno del PD nonostante evidenzi alcuni punti critici io ritengo che Renzi sia stato il peggior segretario che la sinistra abbia avuto spiega l'alternativa a Renzi esiste e si chiama Orlando con connotati più di sinistra e una visione del partito più convincente importante in un'Europa dove le sinistre sono in crisi il consigliere regionale Mauro Travanut vicino alle posizioni di D'Alema dà per certa la frattura e la nascita di un nuovo soggetto politico il comportamento di Renzi non ha fatto altro che battezzare una divergenza in atto da tempo nel PD spiega le dimissioni poi sono l'ennesimo atto di una visione parossistica del potere fuori dalla politica lo definirei un comportamento paranoide in fondo il segretario si è dimesso per poi ricandidarsi subito adesso restare in un partito con Renzi come leader per noi è indigesto ma questo non farà mancare il nostro appoggio al governo a Roma e a quello regionale in Friuli Venezia Giulia le dimissioni di Seracchiani infatti sarebbero dannose per i cittadini amici e compagni rientriamo in studio in diretta torno subito da Enzo Cataruzzi anche a fronte di queste dichiarazioni dissidenti che comunque decidono di rimanere altri che se ne vanno ma sostanzialmente in Friuli Venezia Giulia cambiano gli equilibri cambieranno infatti qualcosa? io penso che gli equilibri non cambieranno in Friuli Venezia Giulia per un problema molto semplice perché nessuno si prenderà la responsabilità di far cadere un governo che comunque hanno partecipato hanno votato delle leggi per cui sono lì dal punto di vista amministrativo cambia poco anche nei comuni perché conterà molto il candidato quindi la coalizione le nuove leggi elettorali e nazionali portano a un proporzionale tutti si stanno posizionando la verità io penso che un po' anche di verità si può anche dire quando il PD è stato formato è stato formato nel 2007 da una fusione a freddo tra ex Margherita ex DS ebbene adesso le parti sono contrarie ci sono più Margherita e meno DS per cui è evidente che c'è una frizione in fieri e questo è il vero motivo è il motivo di leadership secondo me già stato vissuto dalla democrazia cristiana vissuto anche recentemente da Berlusconi cioè i partiti si stanno riposizionando perché è evidente che in un momento in cui cambiano le leggi elettorali cambiano le prospettive e cambiano anche l'aspirazione dei leader insomma è una partita che si gioca soprattutto a Roma poco in Friuli Venezia Giulia poco a livello locale si gioca molto a Roma e quindi le leadership anche locali saranno in grande difficoltà la verità è che Renzi vistosi all'angolo ha giocato di anticipo ha giocato in maniera molto cinica li ha messi davanti alle proprie responsabilità e qui abbiamo visto oggi Emiliano io ho visto anche il suo il suo diciamo così intervento un intervento che non ha fatto l'assemblea ma l'ha fatto oggi prestando il fianco un po' a qualche critica qualcuno ha detto perché non l'hai detto di fronte a lui per cui ci sono queste ampiguità di fondo che comunque continueranno fin quando sarà maturata la scelta la scelta sicuramente sarà maturata quando verranno offerte le candidature grazie Lorenzo Cataruzzi per questo commento a caldo in diretta proseguiamo con il Tg per parlare del Friuli Venezia Giulia Pride che è stato presentato oggi a Udine avrà il patrocinio del comune del capoluogo fiulano e quello della regione il servizio sarà il 10 di giugno la data centrale del Friuli Venezia Giulia Pride 2017 il Pride della comunità LGBT sarà per la prima volta in regione dopo che le precedenti edizioni del Triveneto saranno svolte in Veneto sarà un Pride itinerante che ufficialmente si inaugurerà il 17 maggio a Trieste in occasione della giornata contro l'omofobia per poi proseguire con eventi sia culturali che artistici a Gorizia piuttosto che a Pordenone fino ad arrivare al 10 giugno alla parata finale la festa finale a Udine è un modo per ringraziare l'amministrazione comunale che ha sempre dimostrato di essere disponibile è sempre stata la prima a riconoscere i matrimoni contratti all'estero piuttosto che le unioni civili e quindi ci sembrava corretto concluderlo a Udine proprio a titolo di ringraziamento a titolo del fatto che non è una manifestazione che non vuole essere violenta in nessun modo anzi siamo tutti con il sorriso nel affermare comunque convintamente la lotta per i diritti contro le discriminazioni in ogni senso l'evento avrà il patrocino del comune di Udine e della regione è un percorso importante perché discutere dei diritti delle persone è sempre importante noi abbiamo già lavorato con le associazioni per quanto riguarda il percorso che ha visto coinvolto l'ufficio scolastico regionale l'università noi e le associazioni per quanto riguarda il bullismo omofobico a scuola quindi per sapere l'entità del fenomeno per capire come affrontarlo e come ragionare insieme di diritti allo stesso modo abbiamo inserito all'interno della legge che riguarda il benessere sul lavoro anche le discriminazioni per orientamento sessuale Il sindaco di Corno di Rosazzo Daniele Moschioni ha inviato una comunicazione al prefetto di Udine per manifestare l'indisponibilità ad accogliere profughi sul territorio sarebbero 12 quelli destinati al comune Moschioni che è anche segretario provinciale di Udine della Lega dice di aver fatto proprie le preoccupazioni dei cittadini e poi sottolinea prima devo aiutare chi ha bisogno all'interno della mia comunità Ho ritenuto doveroso comunicare al prefetto visto che a tutela dei cittadini della mia comunità visto anche che sono pubblico ufficiale non abbiamo sul mio territorio né carabinieri né polizia né guardie di finanza comunicare il diniego al prefetto per accogliere profughi erano assegnati al comune di Corno di Rosazzo 12 profughi il sindaco in prima persona è sempre a disposizione dei propri cittadini e sentirsi fermare o chiamarmi al telefono per chiedermi se era vero questa comunicazione il fatto sì che io comunichi al prefetto questo diniego anche perché ritengo che non si tratti di profughi perché sono tutte persone dai 20 ai 30 anni e di buona costituzione fisica e la preoccupazione visto che nel mio comune ci sono anche tanti anziani la preoccupazione è proprio di questa di questa categoria di persone profughi sono credo quelli che scappano dalla guerra a mio modo di vedere in primis bambini e donne qui invece stanno arrivando in modo come si può dire a sproposito anche persone che non hanno niente a che fare con profughi che scappino da guerra dal proprio territorio ci sono tanti cittadini anche nel mio territorio che hanno bisogno di cure hanno bisogno di assistenza quindi come primo cittadino io devo vedere prima dei cittadini di Corno di Rosazzo e poi ed eventualmente anche di altri perché no l'immigrazione al di là delle considerazioni di natura etica è conveniente dal punto di vista economico e una delle considerazioni del ricercatore e giornalista Nando Pagnoncelli ospite in questi giorni al centro Balducci di Zuliano l'accoglienza dei migranti fra valori e pragmatismo tema quanto mai attuale che è stato oggetto di dibattito al centro Balducci di Zuliano con relatore Nando Pagnoncelli ricercatore scientifico e giornalista che attualmente cura per il Corriere della Sera la rubrica settimanale Scenari nonché gli editoriali dell'edizione di Bergamo dopo la laurea in scienze politiche Pagnoncelli ha ricoperto importanti incarichi fra i quali quello di presidente della filiale italiana del gruppo Ipsos società internazionale che si occupa delle ricerche sulla pubblica opinione Nando Pagnoncelli Il tema dei migranti il tema degli stranieri presenti nel nostro paese è un tema molto sensibile che produce reazioni davvero ambivalenti tra i cittadini perché da un lato prevale la preoccupazione derivante da una presenza eccessiva di persone straniere nel nostro paese e poi però in realtà noi sappiamo che molti cittadini quando chiediamo ma lei conosce qualche migrante qualche straniero la risposta è sì li conosco ma questi sono diversi e quindi non usciamo da questa situazione adesso noi introduciamo un altro elemento che a me pare estremamente importante e che tiene conto di quello che è la dinamica demografica nel nostro paese il nostro è un paese che è vecchia che ha un tasso di natalità molto basso e quindi quella che è la percentuale di stranieri oggi presente nel nostro paese è destinata nel 2050 ci dice l'Istat quindi con delle proiezioni demografiche a raddoppiare perché è destinata a raddoppiare? Perché noi per poter mantenere l'attuale assetto economico sociale dobbiamo avere bisogno di più cittadini abbiamo un tasso di denatalità che ormai procede di anno in anno se pensiamo a questo dobbiamo pensare a un paese che invecchia e allora noi abbiamo bisogno avremo sempre più bisogno di accogliere i migrati di integrarli di formarli gli stranieri presenti nel nostro paese rappresenta una realtà estremamente importante anche dal punto di vista economico basti pensare che se noi consideriamo da un lato il gettito fiscale e contributivo garantito dai lavoratori stranieri presenti nel nostro paese e i costi in termini di previdenza sociale sanità istruzione e così via c'è un saldo positivo di 3,9 miliardi di euro e tra gli emigrati pensate ci sono 656 mila imprenditori di cui quasi mezzo milione extracomunitari sono piccole imprese talora familiari ma sono imprese che danno anche lavoro a cittadini italiani ecco allora che integrarli ed accoglierli non solo per molti può essere un dovere morale ma è anche un elemento come dire di convenienza complessiva per l'economia del nostro paese via libera da parte del ministero alla possibile deviazione del traffico dei mezzi pesanti dalla strada provinciale osovana all'autostrada A23 per restituire vivibilità e sicurezza al centro di Pagnacco che sopporta il passaggio annuo di almeno 5 milioni di veicoli tra auto e tir gli autotrasportatori di confartigianato e imprese di Udine dichiarano la propria disponibilità a lasciare l'osovana a patto però che la regione o chi per essa garantisca loro la compensazione di ogni spesa il cambio deve essere a saldo zero se l'operazione andrà a buon fine gli autotrasportatori saranno costretti a entrare al casello di Gemona se provenienti da nord viceversa quello di Udine il costo della tratta per veicoli della massima portata è di 3 euro e mezzo per il capo categoria provinciale Stefano Adami la conseguenza per chi percorre la tratta più volte al giorno sarà un aumento delle spese che certamente non sarà riconosciuto dalla committenza e che dunque deve essere assorbito dalle istituzioni Adami segnala ulteriori problematiche che si sommano all'aumento dei costi molti sindaci impongono limiti sempre maggiori ai veicoli di grosse dimensioni nei centri cittadini e orari ristretti per le operazioni di carico e scarico comprendiamo le esigenze dei centri abitati ma gli amministratori conclude Adami cerchino anche di non dimenticare le nostre sul futuro dell'industria e la sua trasformazione tecnologica si è discusso questa mattina a San Vito al Tagliamento nel corso di un appuntamento organizzato da un'industria Pordenone e Confindustria Digitale il futuro dell'industria tra innovazione digitale e nuove tecnologie è stato analizzato la Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento con la trasformazione competitiva digitale se ne è parlato nell'ambito del Roadshow nazionale di Confindustria Digitale inerente all'industria 4.0 un termine che significa più concretamente cambiare approccio al mercato introdurre nuove tecnologie nelle imprese far evolvere le competenze delle risorse umane tutto questo per implementare un ulteriore cambiamento nelle organizzazioni per il miglioramento della competitività alla giornata di confronto sono intervenuti tra gli altri Michelangelo Agrusti presidente Lean Experience Factory e un'industria a Pordenone Marco Gai presidente giovani imprenditori di Confindustria Carlo Purassanta presidente piattaforme di filiera per le piccole e medie imprese e Delio Catania presidente di Confindustria Digitale a conclusione del ricco programma di interventi sull'industria del futuro è stata effettuata una visita all'app della Lean Experience Factory grazie alla fondazione Friuli anche gli studenti del convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale hanno potuto incontrare i piloti delle frecce tricolori l'obiettivo è quello di condividere sulla base dell'esperienza valori rilevanti per la crescita personale ed importanti anche per lo sviluppo della società il progetto a scuola con le frecce tricolori promosso dalla fondazione Friuli in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale ha fatto tappa al convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale l'iniziativa che vuole accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita in un momento in cui si fa più urgente la necessità di rafforzare quei valori che sono necessari alla crescita personale di ogni individuo e fondamentali per lo sviluppo della società coinvolge 1800 studenti di 8 istituti superiori delle province di Udine e Pordenone anche nella città ducale i piloti hanno incontrato i ragazzi per condividere con loro i segreti che fanno funzionare una squadra perfetta è un'iniziativa molto bella che coinvolge i ragazzi giovani a cui noi rivolgiamo il nostro messaggio il messaggio appunto che con la tanta buona volontà la passione la voglia di fare bene si riescono a raggiungere dei risultati molto molto importanti e con l'esempio delle frecce di colori vogliamo proprio portare questo messaggio soprattutto nelle scuole in cui è un'età in cui il ragazzo sta cercando di decidere cosa fare della propria vita c'è stato un grande lavoro di preparazione tutte le classi hanno ragionato intorno ad alcuni temi alcuni valori che vengono veicolati dalle frecce quali l'ino di mameli il nostro tricolore le missioni di pace in giro nel mondo ma anche la capacità di lavorare insieme e quindi con umiltà di dire aiutami oppure io ti aiuto e anche che cosa pensa la gente delle frecce tricolori oggi è una giornata di grande soddisfazione perché ho visto i ragazzi molto impegnati su temi e su valori fondamentali che le frecce tricolori in qualche modo rappresentano è una giornata di impegno sociale è una giornata di educazione civica molto importante Ed ora la vignetta di Fernando Venturini Biglietterie dello stadio Friuli prese d'assalto fin dal primo mattino per accapararsi un biglietto per la partita tra Udinese e Juventus in serata è arrivata la comunicazione ufficiale della società per il match è sold out è ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per la prossima partita casalinga dell'Udinese chiamata a riscatto dopo la pessima gara con il Sassuolo sotto gli occhi di Zico solo che il prossimo 5 marzo sarà la Juventus a scendere sul terreno del Friuli rendendo decisamente difficili i sogni di rinascita proprio per la gara con la Juve la società si aspetta il tutto esaurito con tantissimi supporters dalla squadra di Torino ad affollare gli spalti proprio stamattina si è aperta la caccia al biglietto con code davanti alle biglietterie già dalle 8 nonostante l'apertura fosse fissata alle 10.30 tifosi da tutto il Triveneto si sono accalcati di buon'ora alle biglietterie nella speranza di ottenere l'ambito tagliando ma anche proveniente da più lontano noi siamo arrivati intorno alle 9.30 sì avete preso i biglietti per l'Udinese o per la Juventus? no noi veniamo da Cagliari e li abbiamo presi proprio per la Juve no non è vero per vedere lo stadio nuovo primo e poi per la Juve speriamo che sia una bella partita insomma che la giochino lei cosa dice? stessa cosa ma come mai da Cagliari fino a qui? no siamo venuti per il nostro figlio che vive qua e allora approfittiamo nella circostanza approfittiamo fate tutti Juventus? sì Udinese o Juventus? Udinese Udinese buongiorno Udinese o Juventus? tutte e due tutti e due ma lei è venuto qui anche per Zico o solo per questa partita? per questa partita Zico non c'era e come si aspetta la partita? speriamo che sia vincente che venga migliore lei è qui chiaramente per la Juventus no per tutte e due si aspetta una bella partita? chi lo sa è vicino quindi vado a vederla tre sole reti nelle prime sei gare del girone di ritorno con Zapata fermo a cinque gol in venticinque partite Periz è rimasta a tre reti in diciotto spezzoni e Matos ancora a secco nelle tredici apparizioni e allarme in casa Udinese e tanto più che si è incepato anche il bomber Terò del Neri ha quindi deciso di correre ai ripari e puntare l'attenzione sulla mira dei suoi attaccanti altro argomento di accesa discussione tra i tifosi e non solo l'imprecisione sottoporta è uno dei problemi più evidenti della squadra bianconera e non può essere ignorato ecco perché oggi al termine della prima seduta settimanale mister Del Neri ha preso posizione sul campo del Bruseschi e ha voluto vedere i tre attaccanti all'opera in una serie di tiri in porta prima in quelle piccole poi in quella grande urge aggiustare la mira e per iniziare ecco una reazione in più di allenamenti specifici ed è iniziato oggi il secondo stagio voluto e organizzato già da Giampiero Ventura è dedicato ai calciatori emergenti 22 convocati dal CT Azzurro tra i quali c'è anche il bianconero Alex Meret attualmente in prestito alla SPAL si sono radunati ieri sera al centro tecnico federale di Coverciano dove resteranno fino a domani stamattina il primo allenamento poi il secondo nel pomeriggio alle 15.30 è una doppia seduta con i medesimi orari alla mattina si inizia alle 10.30 è prevista anche per domani Ventura ha confermato l'interista Gagliardini i milanisti Locatelli e la Padula mentre il gruppo più numeroso proviene dall'Atalanta per Meret una conferma importante che si unisce alle manifestazioni di interesse ripetute da parte di Juventus e Inter che cercano il portiere del Friuli e questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale che termina qui grazie a tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci a presto